Iniziamo la conferenza stampa di presentazione di Juan Francisco Brunetta e di Maxime Biusy. Cedo la parola al direttore sportivo del Parma, Marcello Carli. Io passo la parola subito ai ragazzi perché presentiamo gli altri due ragazzi che non abbiamo potuto presentare prima per le problematiche che tutti conosciamo. Ne rimane da presentare due, credo. O c'è dei problemi o li abbiamo presi troppi, non lo so perché siamo ancora a presentare i giocatori, però fa parte del momento. Siamo contenti di presentare questi due ragazzi. Sono qui con noi, stanno entrando a piano regime e quindi abbiamo grande fiducia in tutto il gruppo, in tutti i ragazzi. Abbiamo fiducia anche in questi due giovani giocatori che siamo convinti ci potranno dare una mano e ci potranno dare soddisfazione. Quindi ne avete a disposizione e fate le domande che ritenete necessarie. Io li do solo un benvenuto e niente. Devono comportarsi bene, avere mentalità giusta e allenarsi bene. Il resto poi sarà al campo a far vedere le loro qualità. Buonasera a tutti. Sono Paolo Grossi della Gazzetta di Parma. Volevo fare una domanda che vale per tutti e due. Mi rispondete una alla volta. Quando è capitata l'occasione di venire in Italia, in una squadra italiana e nel Parma, che cosa conoscevate del nostro calcio e del Parma? Che cosa sapevate di noi? Ciao, però... Quanto alla squadra di Parma la conoscevo molto bene, perché è una squadra che ha una grande storia. Io seguo da sempre il campionato italiano e di conseguenza, certo che sì, conoscevo Parma e conosco la squadra. Quando hai sentito l'occasione di venire in Italia e giocare con il Parma, che è quello che conoscevi di Parma e della Liga Italiana? No, bene, la verità è che quando mi parlano di venire in Parma, non l'ho dò ne un minuto. Ho fatto molta forza per arrivare a qui e la Serie A è una liga molto competitiva, molto attrativa, dove hai grandissimi equipi e grandissimi giocatori, così che spero di stare all'altura e poter dimostrare al club la confianza che mi ha dato. Quando mi hanno proposto la possibilità di Parma non ci ho pensato neanche un secondo. Il Parma è una società che conoscevo ovviamente e per la quale sono passati i giocatori prestigiosi e anche la Serie A è un campionato assolutamente competitivo e attraente, lui l'ha definito così, per cui spero di essere veramente all'altezza e farò di tutto per esserlo. Buonasera, Guglielmo Truppo, Radio Bruno. Una domanda per Brunetta che ha già giocato, che ha già avuto modo di assaggiare il campo, anche se per poco, quali sono state le tue impressioni e soprattutto come ti sei trovato con il gruppo? Una domanda per te, che ti attentaste il campo, perché ti attentaste la cansa, perché ti attentaste, quali sono le tue impressioni e quali sono le tue impressioni sulle gruppo, sulle l'equipo, sulle jugar un partito? No, bueno, primero la verdad è una alegría enorme volver a jugar dopo di un mes difficile, perché, bueno, mi tocò llegar e tener Covid, e, bueno, fu un mes difficile, e, bueno, después de tanto tiempo, también, de toda la pandemia volver a jugar, la verdad que fue una alegría enorme, y poder debutar acá en el club, y nada, muy contento, y la verdad que me encontré con un grupo espectacular, con unos compañeros que nos ayudan muchísimo en el día a día, nosotros, que por ahí nos cuesta un poco esta nueva experiencia, así que, como digo, la verdad, muy contento. No, he estado ovviamente molto contento di debuttare, soprattutto dopo un mese difficile, perché quando è arrivato, detto quando sono arrivato, ho avuto anche il problema del Covid, quindi è stato un mese molto complesso, però è stato veramente bellissimo, un'allegria enorme, una felicità enorme quella di scendere in campo, è stato, ho avuto ottima impressione, soprattutto abbiamo veramente un gruppo incredibile, dove tutti ci aiutano tantissimo, quindi sono stato veramente felice. Invece, Bussi, chiedo a che punto è fisicamente, se è pronto eventualmente per la partita dopo la sosta. Rien n'est encore sûr, je travaille dur tous les jours avec le staff médical pour revenir le plus vite possible, mais voilà, je suis sur le retour, rien n'est encore sûr. In questo momento non posso dire nulla, sto lavorando costantemente con lo staff medico, ci stiamo continuando a preparare, sto recuperando, però ancora nulla vi è di certo, e quindi non posso pronunciarmi su un eventale rientro immediato. Io a Bussi chiedo, per chi non lo conosce ancora, soprattutto i tifosi, di raccontarsi un po' che tipo di giocatore è e qual è il suo idolo, il suo esempio? Concerse la question per voi, come va, il governo dei giocatore, che tipo di giocatore è il suo ero? E che tipo di giocatore è il suo ero? Quali tipo di giocatore sono? Io penso che sono un giocatore che, che per me cosa sono le città, io devo amere molto offensivemente e defensivemente, e io posso fare durante tutto il giocatore, senza problemi, quindi fisicamente e per la mia puissance, ho cercato di ammettere molto l'equipe. I miei idoli, quando ero più piccoli, ho sempre adorato Fabio Cannavaro e anche Daniel Alves. Quindi da questo punto di vista cerco di coprire quanto più possibile la mia zona del campo, la fascia laterale. Quindi ritengo di essere un giocatore completo e per quanto riguarda i miei idoli in particolare, io mi sono sempre ispirato, uno dei miei idoli è senz'altro stato in passato Fabio Cannavaro e anche, aggiungerei, Demi Alves. A Brunetta invece faccio un nome, che mi hanno detto essergli molto caro, che è Richelme, e poi gli chiedo invece qual è l'idolo reale e il giocatore soprattutto a cui ti ispiri? A te nombra, se dite che è molto caro, vorrei dire che è Richelme, e qual è il tuo idolo? Qual è il tuo idolo sempre smirato quando ti ispirai a Salve? No, bene, sì, bene, di mirare, la verità che in suo momento quando Riquelme jugava, credo che la maggior parte dei miei posizioni lo miravano a lui, e più nel fútbol argentino, e il mio idolo anche era lui, futbolistico, per le cose che faccia dentro del campo. La verità è che di nino lo íbamo a lui molto e si aprendono moltissime cose, io ho avuto la chance di poter stare lì, da piccolo, e poter venire alla cancia, così era un privilegio molto caro. Sì, insomma, ogni bambino argentino, credo che soprattutto quelli che giocano nella sua posizione, hanno visto Richelme come un idolo, come un esempio, lui ha avuto anche la chance di vederlo da quando era piccolo, di vederlo direttamente in campo, quindi ha imparato tantissimo, e Richelme è proprio, al di là di quello che dite, è proprio il suo idolo, insomma, ma come di tanti ragazzi, insomma, giovani argentini come lui. Brunetta volevo chiedere, nei minuti che ti abbiamo visto al tuo esordio, hai mostrato una forte dose di temperamento, ti ritieni un trequartista tipico, capace di unire il temperamento, la grinta, alla qualità? Sì, credo che oggi in dia il futbolista deve essere lo più completo possibile, e ovviamente mi caratteristica è tenere la pelota, cercare di andare per davanti sempre in la posizione che ci tocca, di asistir, però, bueno, uno también tiene che agregare le altre cose, por ahí il futbol europeo è molto tecnico, e, bueno, io credo che se uno le agrega intensità e le agrega tutto questo, creo che lo va a aiutare muchísimo, così che, bueno, igual, uno sempre, por ahí il futbol argentino è molto aguerrido, in questo sentido, e, bueno, uno già viene con questo da già. Ovviamente l'obiettivo è quello di essere un giocatore più completo possibile, è ovvio che le sue caratteristiche sono di avere una buona tecnica, comunque di avere la palla tra i piedi, di fornire assist ai compagni, ma soprattutto nel calcio anche europeo, che è molto tecnico, serve anche la grinta, serve anche come aiuto tutto il temperamento, e lui viene da un calcio come quello argentino, dove la grinta e il temperamento sono fondamentali, quindi si porta con lui anche questo nel suo bagaglio tecnico e caratteriale. Un'ultima cosa per entrambi, la Serie A è sicuramente il campionato più tattico che c'è al mondo, è una cosa che vi spaventa o vi stimola? Il campionato italiano, il campionato italiano, il campionato più tattico, è qualcosa che vi spaventa? Certo, è qualcosa che ho sapato, è sicuramente il campionato più tattico del mondo, e questa è una delle ragioni per le quali io prendo questo campionato con grande piacere, e ho voglia di evoluire da questo lato, di crescere come giocatore e come uomo, e di apprendere il più possibile tacticamente, perché io penso che per le difense russi è uno dei migliori lievi per apprendere. Certamente sapevo che il campionato italiano era uno dei campionati più tattici a livello mondiale, in cui la tattica ha un ruolo fondamentale, ed è anche per questo che ho deciso di raccogliere questa sfida, di venire in Italia, per crescere anche dal punto di vista tattico, e credo che questo sia il miglior modo per farlo, quindi crescere tatticamente, ma anche crescere come giocatore e come persona, e farlo proprio qui. Direttore, sette giornate che bilancio possiamo tracciare, in questa situazione davvero atipica, perché basta guardare poi tutti i campionati europei come si stanno snodando, è veramente difficile giudicare o fare bilanci o dire se sono stato bravo o meno bravo. Allora, intanto, prima cosa, voglio parlare dei due ragazzi, perché per noi, come tutti i componenti della Rosa, in questo momento siamo 29, sono tutti giocatori importanti, e la cosa più importante per noi è quella di averne a disposizione tutti. Purtroppo la vera problematica del momento, al di là di tutto, ed è normale che ci sia difficoltà per tutti, quindi non è che noi siamo sulla luna, siamo come gli altri, uguali agli altri, quindi io ho sempre detto non piangiamoci addosso assolutamente, perché quello che succede a noi può succedere a tutti. È normale, noi siamo stati ancora più atipici, perché venivamo da un cambiamento totale, quindi questo cambiamento totale di società, di tutto, anche di conduzione tecnica, che porta a fare allenamenti totalmente diversi da prima e tutto il resto, farla senza avere a disposizione i giocatori diventa quasi impossibile. Quindi la possibilità di avere tutto il gruppo insieme, unito, noi abbiamo fatto due allenamenti la settimana scorsa con tutta la squadra insieme, onestamente la sensazione è stata bella, è stata bella quella di poter andare al campo a vedere un gruppo che si è allenata, i ritmi che si alzavano, perché poi non è tanto un problema neanche di chi gioca, è proprio un problema di allenamento, perché quando hai i 24-25 ragazzi di un certo livello e fanno l'allenamento, l'allenamento viene di un livello altissimo e quindi la crescita è scontata e immediata. Ti dispiace per Busy, perché noi l'avevamo seguito tanto, una società abbastanza, fra virgoletto, rognosa, e quindi è stata una trattativa lunga, e lui ha avuto questo problema proprio nell'ultima partita prima che finisse il mercato, perché quando giocavano in Coppa nella qualificazione e ha avuto questo problema, questo stiramento, che ci ha messo anche un po' in difficoltà, però pensando all'età, pensando a quello che poteva essere per il Parma nei prossimi anni e nel prossimo futuro, insomma siamo riusciti comunque l'ultimo giorno di mercato facendoli prendere un aereo privato a prenderlo ugualmente, nonostante sapevamo che nel frattempo era venuto questo problemino che aveva avuto questo stiramento, che comunque sta reagendo bene, fa benissimo a non essere sicuro di quando rientra, però insomma crediamo che magari possa essere a disposizione, o cercheremo di poterlo far essere a disposizione per la partita con la Roma, poi quella dopo, comunque sta guarendo, sta lavorando bene e ci sta dando sensazioni positive. Il bilancio io non lo faccio, siamo stati bravi, non lo so, io so che noi siamo un gruppo che abbiamo grandissimi margini di miglioramento, i punti che abbiamo ce li teniamo, secondo me sono quelli giusti per quello che abbiamo espresso, vogliamo esprimere magari anche qualcosa di diverso, però ti ripeto, non vengo a dire abbiamo sei punti perché siamo stati in condizione, no, abbiamo sei punti perché la squadra in questo momento ha meritato sei punti, quindi dobbiamo cercare tutti di meritare ancora di più, il nostro obiettivo è chiaro, anche questa settimana c'era il Presidente e ci siamo confrontati tanto, quest'anno per noi è un campionato determinante, per noi è la salvezza, perché salvandoci quest'anno io sono convinto che il Parma possa avere un futuro importante, un futuro importante fatto di programmazione, fatto di ragazzi che poi sono destinati a crescere, perché quando metti tanti ragazzi nuovi in un gruppo già consolidato, io vedo anche quest'anno dei ragazzi che l'anno scorso avevano difficoltà a fare delle partite strepitose, sto vedendo il Mila che da quando, insomma, vedo un esempio l'anno scorso aveva grandissime difficoltà, quest'anno sembra un giocatore di livello straordinario, quindi sappiamo che quando cambi tanti ragazzi ci vuole un po' di tempo, però il tempo non deve essere un alibi, non è che noi vogliamo pretendere tempo, il tempo è la partita di Roma, ma soprattutto il tempo è fare un grande allenamento domani, noi dobbiamo andare al campo domani, fare un grande allenamento, far crescere il gruppo, un pezzettino alla volta, quindi, e questo lo fai solo se abbiamo tutto a disposizione, Brunetta è arrivato, era tutto sereno, tutto tranquillo, ha avuto un problema col Covid, l'ha portato per 15 giorni, anzi addirittura lui l'aveva portato anche a altri problemati e tutto il resto fortunatamente l'ha risolto tutte, perché poi anche nella visita abbiamo dovuto fare altre visite, perché comunque volevamo essere sicuri al 100% e quindi gli ha ritardato a tutti, a tutti ha ritardato qualcosa, quindi lo sappiamo, questo ci deve dare ancora più positività, perché io credo che noi abbiamo margini di miglioramento importanti, questo è quello che ci deve consentire di avere fiducia per il futuro, poi se siamo stati bravi fra virgolette lo vedremo a fine anno, questo non lo so, io so che abbiamo un gruppo di ragazzi, io se ho tutti i miei ragazzi con l'allenatore in campo a allenarsi non ho paura di nessuno. Lei che lo vede ogni giorno noi lo vediamo dalla tribuna al campo Liberani sembra un giocatore anche lui per come vive la partita per come agisce lei che invece lo vede ogni giorno c'è contatto ogni giorno come lo vede a proposito di questo periodo perché sono solamente sette partite lui ha detto che il bilancio lo farà magari a fine girone d'andata a fronte di tanti problemi di tanti infortuni Covid com'è Liberani come sta vivendo questo periodo? Il mister lo sta vivendo con grande passione quello che vedete la domenica il modo che ha di rapportarsi a ragazzi è il suo modo per cercare di aiutarli perché lui da loro pretende determinate cose in modo di aiutarli è quello di fra virgolette urlargli negli orecchi in continuazione ma sempre in modo positivo sempre in modo per cercare di dare un aiuto non è mai un urlo o un modo di porsi per criticare e roba del genere assolutamente è un modo perché lui ha in testa una determinata cosa e li vuole aiutare a portarla avanti io ho visto un allenatore positivo un allenatore non si è malamentato di niente non siamo partiti per la trasferta di Udine avevamo otto giocatori col Covid non abbiamo assolutamente neanche mai pensato minimamente di non partire abbiamo fatto di tutto per partire perché non vogliamo assolutamente avere alibi non dovevamo andare a giocarsi le partite anche se dovesse essere in 10 andremo in 10 se saremo in 12 andremo in 12 se saremo tutti saremo più contenti andremo tutti quindi vedo una persona che non si piange addosso va al campo si allena sa anche lui che per fare quello che ha in testa sicuramente non è stata la situazione migliore però non è stupido ha una grandissima opportunità quindi vede solo positivo come lo vedo io noi dobbiamo solamente credetemi la cosa più importante è andare domattina al campo e fare un grande allenamento questa è l'unica strada che una società una squadra ha per crescere il resto sono tutte chiacchiere il Covid c'è per tutti la situazione è difficile per tutti noi dobbiamo essere positivi e trasmettere possibilità alla gente perché si gioca a calcio solo per questo se no tanto vale smettere chiudere tutto e piangersi addosso e non andare perché si sa benissimo che è un calcio diverso è un calcio senza gente io la cosa che più mi dispiace è di essere qui a Parma non ho mai visto questo stadio che per me è bellissimo perché lo guardavamo prima con la possibilità che diventi ancora più bello credo ci stanno lavorando ma comunque è uno stadio che per il calcio è uno spettacolo perché la partita la vedi in modo straordinario io domenica me la sovvista in tribuna perché non ce la faceva stante la panchina e si vede benissimo quindi ecco vedere lo stadio pieno per me sarebbe la più grande bella la più grande soddisfazione e la più grande vittoria per tutti quest'anno poi se avremo lavorato bene meriteremo la fiducia se avremo lavorato male la responsabilità sarà stata mia e me le prenderò fortunatamente su di questo non ho problemi so so qual è il mio ruolo e so qual è il mio lavoro se non volevo avere queste responsabilità facciamo un altro lavoro con meno con meno problematiche ma io su questo sono molto fiducioso io mi piacerebbe avere tutti questi ragazzi al campo allenarsi tutti insieme a giocarsela tutti insieme e allora cresceremo come squadra e credo che noi i nostri obiettivi li otterremo posso fare l'ultimo forse sarebbe una domanda da fare più al Ministro però dato che lei lo ha preso lo conosce bene l'ha visto prima Brunetta può essere il trequartista che sta cercando Oliverani perché alla fine si parla sempre di cantiere aperto di squadra che è al lavoro sul cantiere aperto allora io su questo cantiere aperto se passa come un alibi è la più grande sconfitta che non possiamo avere perché io credo che fa questo lavoro che cerca chi fa questo lavoro e cerca gli alibi è un perdente e quindi abbiamo già perso il cantiere aperto è perché è normale quando fai un certo tipo dove hai in mente un qualcosa se vuoi fare un quadro e i colori in questo momento non ce l'hai aspetti i colori per cercare di farlo più bello è normale io credo che il Ministro sia stato molto intelligente perché quando ha capito che in un certimilato momento forse serviva anche un po' più di concretezza per dare anche forza ai ragazzi per poter poi cercare altro lo ha fatto e secondo me ha dimostrato veramente di essere molto intelligente Brunetta noi l'abbiamo preso perché pensiamo che abbia le caratteristiche per farci crescere ma come ce l'ha Boussy come ce l'ha Somme come ce l'ha Brassiprien come ce l'ha Bruno Alves come ce l'ha Cornelius come ce l'ha Inglese perché non si parla di loro ma noi ci sono mancato i giocatori importanti in tutti i ruoli quindi io credo che lui e Brunetta hanno le caratteristiche per farci crescere la squadra se lo dovrà guadagnare il posto se lo dovrà guadagnare allenandosi tutti i giorni a mille all'ora perché la competizione sarà alta io vorrei che mi entrasse il prima possibile vorrei che ci fosse una gran bella competizione tutte le settimane all'allenamento le squadre forti crescono se hanno 24 25 26 giocatori forti che si danno battaglia sportivamente durante la settimana allora si diventa una grande squadra se ci si allenano 12 13 difficilmente si può diventare una grande squadra quindi io credo che tutti questi ragazzi abbiano qualità importanti poi lo dimostrerà al campo se abbiamo fatto qualche situazione fatta bene o qualche bischerata il campo lo vedrà il calcio è l'unico mondo dove non si può bleffare perché poi c'è un rettangolo quando uno va dentro non c'è possibilità sai in tanti altri lavori uno può prenderlo metterlo magari lo metti da qualche parte che fa meno danni non se ne accorge nessuno nel calcio si va in campo siamo 11 contro 11 o sei bravo o non sei bravo quindi il tempo dirà come avremo lavorato su questi ragazzi ma io su questo ho una grande fiducia vorrei che Busisti si stesse bene vorrei che Brunetta si potesse allevare vorrei che tutti i ragazzi si possano allenare al 100% e dopo ce la giocheremo se saremo più bravi vinceremo se no perderemo però ecco non vorrei passarsi un'analisi per questo momento noi volevamo sottolineare che in questo momento comunque la squadra si è compattata ha fatto un calcio magari non straordinariamente spettacolare oppure andando a cercare partite dove si è creato 10 palle gol no perché forse non avevamo neanche la possibilità però insomma ha portato a casa Roba ha portato a casa Sarificio ha portato a casa e anche da queste partite si riesce grazie a tutti Grazie.